I mercati sono pronti a digerire un'altra mossa al rialzo della Federal Reserve. Ne è convinto il presidente della sezione di St. Louis dell'Istituto Centrale Americano che da Seoul ha ventilato un secondo rialzo in estate, dopo quello al termine dello scorso anno che ha segnato la fine della lunga fase del denaro a costo zero. Non c'è da sorprendersi, dato l'avvio che abbiamo dato a dicembre, è la politica del comitato che è quella di normalizzare i tassi lentamente e gradualmente nel tempo. La mia idea dunque è che se tutto va bene procederemo agevolmente. L'ora potrebbe scoccare a giugno o a luglio. Il primo trimestre 2016 ha mostrato un'economia americana più solida del previsto, ma molto dipenderà anche dall'andamento del dollaro del quale la Fed vuole scongiurare un eccessivo apprezzamento.